La pillola anti-covid della Merck è disponibile da questo martedì in Italia. Approvata dall'Agenzia Italiana del Farmaco lo scorso 22 dicembre, può essere usata in condizioni di emergenza. Il Molnupiravir, questo è il suo nome, è una pillola rossa che può essere assunta anche in casa. Secondo i test, aiuta a prevenire il 30% dei casi gravi e dei ricoveri. Si è assunta però entro cinque giorni dai primi sintomi, altrimenti risulta inutile. Bisognerà assumere due capsule per cinque giorni. Sconsigliato in alcuni casi per le donne in stato interessante, per esempio il primo farmaco messo a punto espressamente per il covid. Dopo l'entusiasmo iniziale, la sua efficacia è stata portata dal 50 al 30%. La Francia, proprio per questo, ha rinunciato al farmaco. Oltre alla pillola della Merck, c'è anche l'antivirale della Pfizer che arriverà in Italia alla fine di gennaio.